Capitolo 9. Pentimento. Disapprovazione da parte di Allah e del suo messaggero, nei confronti di quei politeisti con i quali concludeste un patto. Per quattro mesi potrete liberamente viaggiare sulla terra e sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Allah svergogna i miscredenti. Ecco, da parte di Allah e del suo messaggero, un proclama alle genti nel giorno del pellegrinaggio, Allah e il suo messaggero disconoscono i politeisti. Se vi pentite, sarà meglio per voi. Se invece volgerete le spalle, sappiate che non potrete ridurre Allah all'impotenza. Annuncia. A coloro che non credono, un doloroso castigo. Fanno eccezione quei politeisti con i quali concludeste un patto, che non lo violarono in nulla e non aiutarono nessuno contro di voi, rispettate il patto fino alla sua scadenza. Allah ama coloro che, lo temono. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi associatori ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro a guati. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso. E se qualche associatore ti chiede asilo, concediglielo affinché possa ascoltare la parola di Allah, e poi rimandalo in sicurezza. Ciò in quanto è gente che non conosce. Come potrebbe esserci un patto tra Allah e il suo messaggero e i politeisti, ad eccezione di coloro con i quali stipulaste un accordo presso la Santa Moschea? Finché si comportano rettamente con voi, comportatevi rettamente verso di loro. Allah ama i timorati. Come ci può essere un patto, quando hanno il sopravvento su di voi, non vi rispettano né per la parentela, né per i giuramenti. A parole vi compiaceranno, ma nel loro cuore vi rinnegano. La maggior parte di loro è ingiusta. Svendono a vilprezzo i segni di Allah e frappongono ostacoli sul suo sentiero. È veramente nefando quello che fanno. Nei confronti dei credenti, non rispettano né la parentela, né i trattati, essi sono i trasgressori. Se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, siano vostri fratelli nella religione. Così esponiamo chiaramente i nostri segni per gente che comprende. E se dopo il patto mancano ai loro giuramenti e vi attaccano, a causa del, la vostra religione, combattete i capi della miscredenza. Non ci sono giuramenti, validi, per loro, forse così desisteranno. Non combatterete contro gente che ha violato i giuramenti e cercato di scacciare il messaggero? Sono loro che vi hanno attaccato per primi. Li temerete? Allah ha ben più diritto di essere temuto, se siete credenti. Combatteteli finché Allah li castighi per mano vostra, li copra di ignominia, vi dia la vittoria su di loro, guarisca i petti dei credenti. Ed espella la collera dai loro cuori. Allah accoglie il pentimento di chi egli vuole. Allah è sapiente, saggio. Credete di poter essere lasciati in pace, b. Prima che Allah non abbia riconosciuto coloro che lottano e che non cercano altri alleati oltre ad Allah, al suo messaggero e ai credenti? Allah è ben informato di quello che fate. Non spetta agli associatori la cura delle moschee di Allah, mentre sono testimoni della loro stessa miscredenza. Ecco quelli che vanificano le opere loro e che rimarranno perpetuamente nel fuoco. Badino alla cura delle moschee di Allah solo coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno, eseguono l'orazione e pagano la decima e non temono altri che Allah. Forse saranno tra coloro che sono ben diretti. Metterete sullo stesso piano quelli che danno da bere ai pellegrini e servono il Sacro Tempio e quelli che credono in Allah e nell'ultimo giorno e lottano per la sua causa? Non sono uguali di fronte ad Allah. Allah non guida gli ingiusti. Coloro che credono, che sono emigrati e che lottano sul sentiero di Allah con i loro beni e le loro vite, hanno i più alti gradi presso Allah. Essi sono i vincenti. Il loro Signore annuncia loro la sua misericordia e il suo compiacimento e i giardini in cui avranno delizia durevole. In cui rimarranno per sempre. Presso Allah c'è mercede immensa. O voi che credete, non prendete per alleati i vostri padri e i vostri fratelli se preferiscono la miscredenza alla fede. Chi di voi li prenderà per alleati sarà tra gli ingiusti. Di, se i vostri padri, i vostri figli, i vostri fratelli, le vostre mogli, la vostra tribù, i beni che vi procurate, il commercio di cui temete la rovina e le case che amate vi sono più cari di Allah e del suo messaggero e della lotta per la causa di Allah, aspettate allora che Allah renda noto il suo decreto. Allah non guida il popolo degli empi. Certamente Allah vi ha soccorsi in molti luoghi, come nel giorno di Anein, quando eravate tronfi del vostro numero ma non servì a nulla e la terra, per quanto basta, vi sembrava angusta, volgeste le spalle e fuggiste. Allora Allah fece scendere la sua pace sul suo messaggero e sui credenti. Fece scendere armate che non vedeste e castigò i miscredenti. Questa è la mercede degli empi. Dopo di ciò, Allah accoglierà il pentimento di chi vuole. Allah è perdonatore, misericordioso. O voi che credete, i politeisti sono in purità, non si avvicinino più alla Santa Moschea dopo quest'anno. E non temete la miseria, che Allah, se vuole, vi arricchirà della sua grazia. In verità Allah è sapiente, saggio. Combattete coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno, che non vietano quello che Allah e il suo messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della scrittura, che non scelgono la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. Dicono i giudei, Esdra è figlio di Allah, e i nazareni dicono, il Messia è figlio di Allah. Questo è ciò che esce dalle loro bocche. Ripetono le parole di quanti già prima di loro furono miscredenti. Li annienti Allah, quanto sono fuorviati. Hanno preso i loro rabbini, i loro monaci e il Messia figlio di Maria, come signori all'infuori di Allah, quando non era stato loro ordinato se non di adorare un Dio unico. Non vi è Dio all'infuori di Lui. Gloria a Lui, ben oltre ciò che gli associano. Vorrebbero spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah non intende che perfezionare la sua luce, anche se ciò dispiace ai miscredenti. Egli è colui che ha inviato il suo messaggero con la guida e la religione della verità, onde farla prevalere su ogni altra religione, anche se ciò dispiace agli associatori. O voi che credete, molti dottori e monaci divorano i beni altrui, senza diritto alcuno, e distolgono dalla causa di Allah. Annuncia a coloro che accumulano l'oro e l'argento e non spendono per la causa di Allah un doloroso castigo. Nel giorno in cui queste ricchezze saranno rese incandescenti dal fuoco dell'inferno e ne saranno marchiate le loro fronti, i loro fianchi e le loro spalle, questo è ciò che accumulavate. Gustate dunque quello che avete accumulato. Presso Allah il computo dei mesi è di dodici mesi, lunari, nel suo libro, sin dal giorno in cui creò i cieli e la terra. Quattro di loro sono sacri. Questa è la religione retta. In questi mesi non opprimete voi stessi, ma combattete tutti assieme i politeisti, come essi vi combattono tutti assieme. Sappiate che Allah è con coloro che, lo temono. In verità, il mese intercalare non è altro che un sovrappiù di miscredenza, a causa del quale si traviano i miscredenti, un anno lo dichiarano profano e un altro lo sacralizzano per alterare il numero dei mesi resi sacri da Allah. Così facendo, profanano quello che Allah ha reso sacro. Le peggiori azioni sono state rese belle ai loro occhi, ma Allah non guida il popolo dei miscredenti. O voi che credete? Perché quando vi si dice, lanciatevi, in campo, per la causa di Allah, siete, come, inchiodati alla terra. La vita terrena vi attira di più di quella ultima? Di fronte all'altra vita, il godimento di quella terrena è ben poca cosa. Se non vi lancerete nella lotta, vi castigherà con doloroso castigo e vi sostituirà con un altro popolo, mentre voi non potrete nuocergli in nessun modo. Allah è onnipotente. Se voi non lo aiutate, Allah lo ha già soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito, lui, il secondo di due, quando erano nella caverna e diceva al suo compagno, non ti affliggere, Allah è con noi. Poi, Allah fece scendere su di lui la sua pace, lo sostenne con truppe che voi non vedeste, e rese infima la parola dei miscredenti, mentre la parola di Allah è la più alta. Allah è eccelso, saggio. Leggeri o pesanti, lanciatevi nella missione e lottate con i vostri beni e le vostre vite. Questo è meglio per voi, se lo sapeste. Se fosse stato un affare immediato e un viaggio breve, ti avrebbero seguito, ma la distanza parve loro eccessiva. E allora si misero a giurare, in nome di Allah, se avessimo potuto saremmo venuti con voi. Si perdono da loro stessi, ma Allah sa perfettamente che sono dei bugiardi. Che Allah ti perdoni, perché li hai dispensati, dal combattere, prima che tu potessi distinguere chi diceva il vero e chi era bugiardo. Coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno non ti chiedono dispensa, quando si tratta di lottare con i loro beni e le loro vite. Allah conosce coloro che, lo temono. Soltanto coloro che non credono in Allah e nell'ultimo giorno ti chiedono dispensa, i loro cuori sono dubbiosi e restano sospesi nei loro dubbi. Se avessero voluto, si sarebbero ben preparati a partire, ma Allah ha disdegnato la loro partenza, li ha impigriti. Venne detto loro, statevene in compagnia di quelli che rimangono, a casa. Se fossero usciti con voi, vi avrebbero solo danneggiato, correndo qua e là e seminando zizzania, che certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati. Ma Allah ben conosce gli ingiusti. Già prima fomentavano ribellione ostacolando i tuoi progetti, finché venne la verità e trionfò il decreto di Allah, nonostante la loro avversione. Fra di loro vi è chi dice, dispensami dalla lotta, non mettermi alla prova. Che, non sono già, stati messi alla prova? In verità l'inferno circonderà i miscredenti. Se ti giunge un bene, ne soffrono, se ti colpisce sventura, dicono, meno male che abbiamo preso le nostre precauzioni. E si allontanano esultanti. Dì, nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha scritto per noi. Egli è il nostro patrono. Abbiano fiducia in Allah coloro che credono. Dì, cosa vi aspettate, se non le due cose migliori? Quello che invece ci aspettiamo per voi è che Allah vi colpisca con un castigo, da parte sua o tramite nostro. Aspettate. E anche noi aspetteremo con voi. Dì, che facciate l'elemosina volentieri o a malincuore, non sarà mai accettata, che siete gente perversa. Nulla impedisce che le loro elemosine siano accettate, eccetto il fatto che non credono in Allah e nel suo messaggero, che non vengono alla preghiera se non di malavoglia, che non danno l'elemosina se non quando sono costretti. Non ti stupiscano i loro beni e i loro figli. Allah con quelli vuole castigarli in questa vita terrena e far sì che periscano penosamente nella miscredenza. Giurano per Allah che sono dalla vostra parte, mentre invece non è vero, quella è gente che ha paura. Se trovassero un rifugio, o caverne, o un sotterraneo, vi si precipiterebbero a briglia sciolta. Tra loro c'è chi ti critica a proposito delle elemosine, se ne usufruiscono sono contenti, altrimenti si offendono. Se davvero fossero soddisfatti di quello che ricevono da Allah e dal suo messaggero, direbbero, ci basta Allah. Allah ci darà della sua grazia, e così il suo messaggero ancora. I nostri desideri tendono ad Allah. Le elemosine sono per i bisognosi, per i poveri, per quelli incaricati di raccoglierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per il riscatto degli schiavi, per quelli pesantemente indebitati, per, la lotta sul sentiero di Allah e per il viandante. Decreto di Allah. Allah è saggio, sapiente. Tra loro ci sono quelli che dileggiano il profeta e dicono, è tutto orecchi. Di, è tutto orecchi per il vostro bene, crede in Allah e ha fiducia nei credenti, ed è una testimonianza di, misericordia per coloro, fra voi, che credono. Quelli che tormentano il messaggero di Allah, avranno doloroso castigo. Giurano, in nome di, Allah per compiacervi, ma se sono credenti, sappiano, che Allah e il suo messaggero hanno maggior diritto di essere compiaciuti. Non sanno, dunque, che chi si oppone ad Allah e al suo messaggero, avrà come dimora eterna il fuoco dell'inferno? Ecco l'abominio immenso. Gli ipocriti temono che venga rivelata una sura che sveli quello che c'è nei loro cuori. Di, schermite pure. Allah paleserà quello che temete, venga reso noto. Se li interpellassi ti direbbero, erano solo chiacchiere e scherzi. Di, volete schernire Allah, i suoi segni e il suo messaggero? Non cercate scuse, siete diventati miscredenti dopo aver creduto, se perdoneremo alcuni di voi, altri ne castigheremo, poiché veramente sono stati empi. Gli ipocriti e le ipocrite appartengono gli uni alle altre. Ordinano quel che è riprovevole, proibiscono le buone consuetudini e chiudono le loro mani. Dimenticano Allah, ed egli li dimenticherà. Sono loro, gli ipocriti, ad essere empi. Agli ipocriti, maschi e femmine, e ai miscredenti, Allah ha promesso il fuoco dell'inferno, nel quale rimarranno in perpetuo. Questo è quanto si meritano. Allah li ha maledetti e avranno duraturo tormento. Così, avvenne, a quelli che vennero prima di voi, che erano più potenti e più ricchi di beni e di figli. Godettero della loro parte e voi godete della vostra, come quelli che vennero prima di voi godettero della loro. Voi polemizzate come essi polemizzarono. Essi sono coloro le cui opere sono rese vane in questa vita e nell'altra, essi sono i perdenti. Non è giunta loro la storia di quelli che vissero precedentemente, del popolo di Noè, degli, Ad e dei Tamud, del popolo di Abramo, degli abitanti di Madian e delle città devastate? Messaggeri della loro gente recarono prove evidenti. Non fu Allah ad essere ingiusto con loro, sono loro che lo furono nei loro stessi confronti. I credenti e le credenti sono alleati gli uni degli altri. Ordinano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, eseguono l'orazione pagano la decima e obbediscono ad Allah e al suo messaggero. Ecco coloro che godranno della misericordia di Allah. Allah è eccelso, saggio. Ai credenti e alle credenti, Allah ha promesso i giardini in cui scorrono i ruscelli, dove rimarranno in perpetuo, e splendide dimore nei giardini dell'Eden, ma il compiacimento di Allah vale ancora di più, questa è l'immensa beatitudine. O profeta, combatti i miscredenti e gli ipocriti, e sii severo con loro. Il loro rifugio sarà l'inferno, qual triste rifugio. Giurano, in nome di Allah, che non hanno detto quello che in realtà hanno detto, un'espressione di miscredenza, hanno negato dopo, aver accettato, l'Islam e hanno agognato quel che non hanno, potuto, ottenere. Non hanno altra recriminazione se non che Allah col suo messaggero li ha arricchiti della sua grazia. Se si pentono sarà meglio per loro, se invece volgono le spalle, Allah li castigherà con doloroso castigo in questa vita e nell'altra, e sulla terra, non avranno né alleato, né patrono. Qualcuno di loro si è assunto un impegno di fronte ad Allah, se ci darà della sua grazia, saremo certamente generosi e saremo gente del bene. Quando poi egli dà loro della sua grazia, diventano avari e volgono le spalle e si allontanano. Per questo, l'ipocrisia si stabilisce nei loro cuori, fino al giorno in cui lo incontreranno, perché mancarono alla promessa ad Allah e perché mentirono. Non sanno che Allah conosce i loro segreti e i loro conciliaboli e che Allah è il supremo conoscitore delle cose, invisibili? Diffamano i credenti che donano spontaneamente e scherniscono quelli che non trovano da donare altro che il loro lavoro. Li schernisca Allah. Avranno doloroso tormento. Che tu chieda perdono per loro o che tu non lo chieda, è la stessa cosa, anche se chiedessi 70 volte perdono per loro, Allah non li perdonerà, perché hanno negato Allah e il suo messaggero e Allah non guida il popolo degli empi. Coloro che sono rimasti indietro, felici di restare nelle loro case, opponendosi così, al messaggero di Allah e disdegnando la lotta per la causa di Allah con i loro beni e le loro vite, dicono, non andate in missione con questo caldo. Di, il fuoco dell'inferno è ancora più caldo. Se solo comprendessero. Ridano poco e molto piangano per quello che hanno fatto. Non pregare per nessuno di loro quando muoiono e non star ritto, in preghiera, davanti alla loro tomba. Rinnegarono Allah e il suo messaggero e sono morti nell'impietà. I loro beni e i loro figli non ti stupiscano. Con quelli Allah vuole castigarli in questa vita e, far sì, che periscano penosamente nella miscredenza. E quando è stata fatta scendere una sura che dice, credete in Allah e combattete a fianco del suo messaggero, i più agiati tra loro ti chiedono dispensa, dicendo, lascia che stiamo con quelli che rimangono a casa. Hanno preferito rimanere con, le donne, lasciate a casa. I loro cuori sono stati sigillati e non comprenderanno. Ma il messaggero e quelli che hanno creduto lottano con i loro beni e le loro vite. Avranno le cose migliori. Essi sono coloro che prospereranno. Allah ha preparato per loro giardini, dove scorrono i ruscelli e dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. Quei beduini che cercano scuse sono venuti per chiederti dispensa, mentre coloro che hanno mentito ad Allah e al suo messaggero, non si sono mossi. Ben presto un castigo doloroso colpirà quelli di loro che sono miscredenti. Non saranno ritenuti colpevoli i deboli, i malati e coloro che non dispongono di mezzi, a condizione che siano sinceri con Allah e col suo messaggero, nessun rimprovero per coloro che fanno il bene. Allah è perdonatore, misericordioso. E neppure, avranno colpa, coloro che ti vengono a chiedere un mezzo di trasporto e ai quali rispondi, non trovo mezzi con cui trasportarvi, e che se ne vanno con le lacrime, che scendono dai loro occhi, tristi di non avere risorse da impiegare, per la causa di Allah. Saranno biasimati solo coloro che ti chiedono dispensa nonostante non manchino di nulla, preferiscono rimanere indietro. Allah ha sigillato i loro cuori ed essi non sanno. Quando ritornate da loro verranno a scusarsi. Di, non scusatevi, non vi crederemo comunque. Allah ci ha informati sul vostro conto. Allah e il suo messaggero giudicheranno il vostro agire e poi sarete ricondotti al conoscitore dell'invisibile e del visibile, che allora, vi mostrerà ciò che avrete fatto. Quando ritornerete vi scongiureranno, in nome di Allah, di lasciarli stare. Allontanatevi da loro, sono sozzura e il loro rifugio sarà l'inferno, compenso per quello che hanno fatto. Giurano per compiacervi, quando anche vi compiaceste di loro, Allah non si compiace degli ingiusti. I Beduini sono i più ostinati nella miscredenza e nell'ipocrisia, i più pronti a disconoscere le leggi che Allah ha fatto scendere sul suo messaggero. Allah è sapiente, saggio. Ci sono Beduini che considerano una grave imposizione quello che spendono e attendono la vostra disfatta. Saranno loro ad essere sconfitti. Allah tutto ascolta e conosce. Ci sono altri Beduini, che credono in Allah e nell'ultimo giorno e considerano quello che spendono come un modo di avvicinarsi ad Allah e ottenere le benedizioni del messaggero. Sono di certo un mezzo per avvicinarsi, ad Allah. Presto Allah li farà entrare nella sua misericordia. In verità Allah è perdonatore misericordioso. Allah si è compiaciuto dell'avanguardia degli emigrati e degli ausiliari e di coloro che li hanno seguiti fedelmente, ed essi sono compiaciuti di lui. Per loro ha preparato giardini in cui scorrono i ruscelli dove rimarranno in perpetuo. Questo è il successo immenso. Tra i Beduini che vi stanno attorno, ci sono degli ipocriti, come del resto tra gli abitanti di Medina. Essi perseverano nell'ipocrisia. Tu non li conosci, noi li conosciamo. Due volte li castigheremo e poi saranno avviati verso un castigo terribile. Altri riconoscono i loro peccati, mescolando opere buone e cattive. Forse Allah accoglierà il loro pentimento. Allah è perdonatore, misericordioso. Preleva sui loro beni un'elemosina, tramite la quale, li purifichi e li mondi e prega per loro. Le tue preghiere saranno un sollievo per loro. Allah tutto ascolta e conosce. Non sanno dunque che è Allah che accetta il pentimento dei suoi servi e che accoglie le elemosine? Allah è colui che accetta il pentimento, il misericordioso. Dì, agite. Allah osserverà le vostre opere e, le osserveranno, anche il suo messaggero e i credenti. Presto sarete ricondotti verso colui che conosce il visibile e l'invisibile ed egli vi informerà di quello che avete fatto. Altri sono lasciati in attesa del decreto di Allah, li punirà o accoglierà il loro pentimento. Allah è audiente, sapiente. Quanto a coloro che hanno costruito una moschea per recar danno, per miscredenza, per provocare, scisma tra i credenti, per tendere, un agguato a favore di colui che, già in passato, mosse la guerra contro Allah e il suo messaggero, quelli certamente giurano, non abbiamo cercato altro che il bene. Allah testimonia che sono dei bugiardi. Non pregarvi mai. La moschea fondata sulla devozione sin dal primo giorno è più degna delle tue preghiere. In essa vi sono uomini che amano purificarsi e Allah ama coloro che si purificano. Chi ha posto le fondamenta della moschea sul timor di Allah per compiacerlo, non è forse migliore di chi ha posto le sue fondamenta su di un lembo di terra instabile e franosa, che la fa precipitare insieme con lui nel fuoco dell'inferno. Allah non guida gli ingiusti. L'edificio che hanno costruito non smetterà di essere un'inquietudine nei loro cuori, finché i loro cuori saranno strappati. Allah è sapiente, saggio. Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando, in cambio il giardino, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per lui vincolante, presente nella Torah, nel Vangelo e nel Corano. Chi, più di Allah, rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto. Questo è il successo più grande. Lo avranno coloro che si pentono, che adorano, che lodano, che peregrinano, che si inchinano, che si prosternano, che raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole, coloro che si attengono ai limiti di Allah. Dai la buona novella ai credenti. Non è bene che il profeta e i credenti chiedano il perdono per i politeisti fossero anche loro parenti dopo che è stato reso evidente che questi sono i compagni della fornace. Abramo chiese perdono in favore di suo padre, soltanto a causa di una promessa che gli aveva fatto, ma quando fu evidente che egli era un nemico di Allah, si dissociò da lui, eppure, Abramo era tenero e premuroso, nei confronti del padre. Non si addice ad Allah traviare un popolo dopo averlo guidato, senza prima render loro evidente ciò che devono temere. Allah è onnisciente. Ad Allah appartiene la sovranità sui cieli e sulla terra. Egli dà la vita e dà la morte. Non avrete, all'infuori di lui, né alleato, né patrono. Allah si è volto, con favore, al profeta, agli emigrati e agli ausiliari, che lo seguirono nel momento della difficoltà. Dopo che i cuori di una parte di loro erano sul punto di perdersi, egli accolse il loro pentimento, in verità egli è dolce e misericordioso nei loro confronti. Per i tre che erano rimasti a casa, la terra nella sua vastità diventò angusta e loro stessi si sentirono stretti e capirono che non c'è altro rifugio da Allah che in lui stesso. Allah accolse il loro pentimento, perché potessero pentirsi. In verità Allah è colui che perdona, il misericordioso. O voi che credete, temete Allah e state con i sinceri. È indegno per gli abitanti di Medina e per i beduini che vivono nei dintorni, non seguire il messaggero di Allah, e preferire la loro vita alla sua. Non proveranno né sete, né fatica, né fame per la causa di Allah, non calpesteranno terra che possa essere calpestata nonostante l'ira dei miscredenti e non riceveranno nessun danno da un nemico, senza che sia scritta a loro favore una buona azione, in verità Allah non lascia che si perda la ricompensa dei buoni. Non faranno nessuna spesa, piccola o grande, e non percorreranno nessuna valle, senza che ciò sia registrato a loro favore, affinché Allah li compensi per le loro azioni più belle. I credenti non vadano in missione tutti insieme. Perché mai un gruppo per ogni tribù, non va a distruirsi nella religione, per informarne il loro popolo quando saranno rientrati, affinché stiano in guardia. O voi che credete, combattete i miscredenti che vi stanno attorno, che trovino durezza in voi. Sappiate che Allah è con i timorati. Quando viene fatta scendere una sura, alcuni di loro dicono, a chi di voi questa sura, ha fatto accrescere la fede? Quanto a coloro che credono, essa accresce la loro fede ed essi se ne rallegrano. Quanto a coloro che hanno una malattia nel cuore, essa aggiunge sozzura a sozzura e muoiono nella miscredenza. Non si accorgono che ogni anno sono tentati una o due volte, quindi non si pentono e non si ricordano. Quando scende una sura, si guardano tra loro, e dicono, forse che qualcuno vi vede, e poi si allontanano. Allontaniala i cuori loro, che in verità sono un popolo che non capisce. Ora vi è giunto un messaggero scelto tra voi, gli è gravosa la pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i credenti. Se poi volgono le spalle, di, mi basta Allah. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. A Lui mi affido. Egli è il Signore del trono immenso.